Le auto incendiate di recente in via Aldomoro a Pescara nei pressi delle case Ater sono solo la punta dell'iceberg di un problema di degrado sommerso che va avanti da tempo negli edifici popolari del capoluogo adriatico. Occupazioni abusive, spaccio e consumo di droga dividono in maniera netta una strada cittadina tra le più popolose di Pescara nel quartiere di San Donato, dove convivono residenti onesti e cittadini disperati, divisi da una numerazione di civici pari e dispari su un comunissimo nastro d'asfalto che funge quasi da spartiacque per gli abitanti delle cooperative Aternum. A farsi portavoce della preoccupazione dei residenti della zona è ancora una volta Domenico Pettinari, presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, che ha tenuto una conferenza stampa davanti al Civico 31 insieme ai consiglieri Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese. Ci troviamo a pochi metri da dove qualche giorno fa hanno dato alle fiamme tre macchine, quindi la situazione è davvero preoccupante e pericolosa. Il Civico 31 è uno dei più pericolosi della zona, dove c'è purtroppo spaccio di droga continuo. Qui raccontano i cittadini che non ce la fanno più che c'è un acquirente ogni 30 secondi, quindi un via vai dalla mattina alla sera, lo immaginate, tossicodipendenti, acquirenti, spacciatori di droga, loro si trovano e si imbattono all'interno dell'ascensore, all'interno delle scale con questi signori. Abbiamo mostrato delle foto eclatanti, dove c'è sangue sulle scale, ci sono siringhe con il sangue dentro, ci sono degli arnesi per consumare droga, abbiamo visto anche del crack su una bottiglia, qualcosa di allucinante. Ecco, noi abbiamo la nostra ricetta in tasca, che sono le nostre proposte che vanno avanti da anni. Qui c'è bisogno subito di dislocare delle pattuglie fisse di polizia, dei pattuglioni misti, anche polizia, carabinieri, anche con l'ausilio dell'esercito. L'abbiamo detto più volte per garanzire la sicurezza K24, ma non basta questo, sono palazzi di edilizia residenziale pubblica, il pubblico deve immediatamente fare un censimento e tutti coloro che non hanno diritto, qui ci sono tanti occupanti anche abusivi, non solo in questo palazzo, vanno sfrattati, allontanati per dare le case a coloro che sono in graduatoria. Cittadini onesti che aspettano a troppi anni. Voi immaginate che in questo momento ci sono 700 domande, quindi 700 famiglie che chiedono un alloggio popolare, non possono avere un alloggio popolare perché all'interno degli alloggi ci sono delinquenti, criminali, coloro che utilizzano l'alloggio per spacciare droghe, ci sono ancora 100 case vuote non assegnate nella città di Pescara. Se venissero assegnate quelle case e se si liberassero tutte le case occupate illegalmente da questi delinquenti, noi potremmo scorrere graduatori e dare casa a coloro che davvero hanno diritto, ne hanno bisogno. E poi lasciatemi dire, questo ormai il centro-destra non ha anche più scuse, governa il paese, governa la regione, governa il comune, non possono dire che loro non c'entrano in nulla e voltarsi dall'altra parte. C'è la nostra mozione presentata anche dal collega Di Pillo in consiglio sull'osservatorio della legalità, la stiamo riproponendo, lui l'aveva già riproposto nel 2017, ci auguriamo che almeno votino quella e istituiscono una volta per tutte l'osservatorio della legalità nella città di Pescara.